buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale stiamo andando a visitare a guardare insomma a godere un po di fresco sulle cascate purse jack va che storia a scarsa strada francese a ecco a 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 ce l'abbiamo fatta dopo mangiamo mangiamo dopo facciamo cascata e dopo mangiamo per tre tavolo top 3 tre grazie si ha ragione no era già pronta a dirci di spostare la macchina perché il parcheggio è privato della dell'agostina mamma mia che odore di cacca ha fatto cipi diareata guarda che acqua trasparente che non è mamma mia allora il sentiero si presenta così bello molto bello molto fresco perché fa veramente già tanto caldo abbiamo il torrentino qua dopo però mai diciamo anche il nome che non mi ricordo va beh no come si chiama la cascata il torrentino il torrente sarà prus giac penso una roba del genere la nutrizione comunque dopo speriamo di trovare un'altra strada per tornare a casa perché è stata una tragedia greca e vabbè però alla fine ce l'abbiamo fatta come sempre dai adesso ci facciamo questi 20 minuti di camminata e vediamo questa cascatella dai piva andiamo avanti non sta a fare di qua piva di qua siamo arrivati lì del ponte naturalmente il cane deve fare sempre la fighetta lei no dai andiamo non vedo l'ora forza non non niki tiente dai si oh siamo arrivati su un punto panoramico qua quasi penso alla fine del sentiero staccata laghetti adesso vediamo di fare una dronata più avanti sentiero leggermente esposto eccolo qua vediamo bene almeno ladronata l'abbiamo fatta come vedete fa un caldo porco proprio stiamo passando il punto del sentiero forse più bruttino che come vedete è molto esposto e voi sarete dicendo si si deve farsi il bagno e invece no ragazzi sta andando a recuperare il drone il drone va ancora neanche un'elica spaccata e atterraggio d'emergenza tipo è andato bene si è impigliato ai rami non si è andato proprio per terra i sassi ma è indistruttibile è veramente tanta tanta roba non posso proprio dire niente è fatto super bene hai ancora una moglie una casa una figlia e un cane esatto ancora tutto saluta i tuoi followers bene no no ci vediamo dopo dai comunque reso conto di questa giornata è che abbiamo fatto tre ore di macchina su un potremmo stare forse un'ora fa caldo infatti abbiamo quasi rotto il drone la nikki è scivolata due volte ha vomitato perché dopo gli è venuto mal di macchina adesso speriamo che il tipo con i mustaci ne fassi un buon pranzo no si si per adesso giornata voto no dai zero no però insomma abbiamo passato giornate migliori no e che fisico beccati lì madonna che cool allora Agostina dopo diciamo anche il nome è tipo ce l'avete con un patate con uno stinco con le patate cioè super super top viva quindi stiamo partendo si stiamo partendo e abbiamo pagato la bellezza di provi a indovinare mamma 40 euro no di più o di meno? di meno si 35 di meno 30 di meno 25 apri il portafoglio e guarda lo scontrino mostrano anche ai nostri follower adesso avevo capito perché era full vegetto 24 24 euro ma dai si quanto costava il stinco? 14 più le birra 5 euro e dopo c'è un 4 euro e un euro non lo so sarà il coperto? no deve tornare no? deve tornare 3 ore di macchina per pagare niente sì però 24 euro giusto sì boh dai mettila davanti che salutiamo bene raga si va a casa super super micchi saluta ciao 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 se vi è piaciuto mettete un like come sempre come sempre iscrivetevi no ma ma fallo tu come lo fai tu? al canale sì ma non dai quindi è quindi è di di là o di dovete voler dai va bene va bene iscrivetevi al canale e ciao a tutti ciao 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 ciao